Un pronostico, non su Bayern Cessi, ma sulla gara di domani. Per il momento se è favorita. Voglio il risultato, in 30 secondi a giro tutti. 2 a 1 per la Juve. 2 a 1, stenti? Supplementare anche domani. Supplementare, per chi vince? Eh. No, devi dirlo. Lo devo dire, Juve. Cue? Anch'io, sperimentare Juve. Balestra? Partita normale 2 a 0 Juve. Gambaro, avevi detto? 2 a 1 Juve. Anche se non me ne vogliono i tifosi bianconeri, però se vincesse il Napoli sarei estremamente contento perché Napoli merita di portare a casa un trofeo importante.